Occhi tristi ma espressivi che interrogano l'uomo. Sono i ritratti degli animali trovati e salvati che danno il titolo alla mostra allestita a Torino all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale. L'esposizione, composta da disegni e fotografie, è curata da OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali e SOS Gaia, componente della consulta delle associazioni di volontariato animalista della città di Torino. Quali sono le finalità della mostra? La mostra è quella che vuole dimostrare l'attività silenziosa dei volontari e soprattutto sensibilizzare, soprattutto diciamo le persone che vengono qua, i ragazzi delle scuole medie e anche comunque le persone che vengono visitare l'Ufficio Relazioni per il Pubblico, qui sensibilizzare sulle tematiche e la protezione degli animali, attraverso fotografie, perché sappiamo che una fotografia vale molto di più di mille parole, quindi di conseguenza una foto indica, uno sguardo di un animale indica che sono esseri viventi come noi, e quindi hanno gli stessi nostri diritti.